Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo nel nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Gli invasori, i francesi a un certo punto, vista la malparata, prendono nella confusione, in realtà non riuscite a vedere bene chi è riuscito a scappare, chi è finalmente in salvo. Vedete che il grosso dei francesi, sotto gli ordini di Jebediah, ripiega dentro la villa, capendo che lì fuori, in terreno aperto, non c'è modo di venirne fuori, coprendosi è ritirata con il fuoco, camminano a ritroso la scalinata che poche ore prima voi avete fatto per partecipare alla festa e ripiegano dentro la villa. Capite, nella commozione generale di quello che è succedendo, che probabilmente hanno portato dentro anche degli ostaggi. A voi, come reagire in 30 secondi? Vado lì così, puoi alzare il tetto, Rebecca. Oddio, no, io mi lancierei dentro ragazzi, mi lancio al piano di sopra, recupero una spada e una pistola e vado di scontro all'arma bianca, non possiamo distruggere la villa. 22, 26, 27, 28, 29, 30! Ok, quindi, fantastico, cominciate ad organizzarvi veramente bene, i messaggi arrivano nell'ordine giusto, facendo le cose giuste, quindi la prima cosa da muovere sono le gambe. Nilo, sta a te? Sì, praticamente faccio sterzare il Gawain e urlo alle mie sorelle, hanno preso ostaggi, però da quanto ho capito la maggioranza della folla è libera, giusto? Siamo riusciti a... Sì, 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 siete riusciti a difendere il grosso degli invitati che nel frattempo sono probabilmente rinchiusi nel capanno da caccia e si stanno armando, perché probabilmente anche è stato proprio il primo sangue versato, così in pieno sfregio della vostra nobiltà. Allora credo che piange a questo punto, cioè proprio arrabbiata e piange e sono lacrime nere perché è connessa al dragoon e distinto proprio si lancia verso questo edificio perché siamo un dragoon a corpo a corpo, dunque che sia che poi ci entriamo, che sia che proprio smontiamo l'edificio, dobbiamo andare lì, ok? E andando lì cerco neanche di stirare qualche dannato francese, che stanno scorrendo lì, ok? Calciandolo come se fossero foglie secche. Ok, però tu hai detto che c'è qualcosa, c'è un problema, abbiamo un problema con la nostra mobilità, giusto? Sì, per adesso ho messo solamente una tacca sul sistema di mobilità danneggiati, quando arriverà a tre sarà il problema principale da affrontare. Dunque forse ogni tanto c'è una zampa che scivola, ok? Sì, sì. Ok, dunque tira un di 10, questo c'ho dei malati, c'ho dei bonus? Qualcosa? P2? Basta? Secondo me hai vantaggio, è un'azione relativamente semplice, però ti faccio una domanda, te lo darei se fosse un'azione normale, mi hai detto che stai piangendo e sei in pieno breakdown emotivo? Sì, è morta mia madre, l'ho appena capito adesso. Esatto, quindi forse lo tiri normale, cioè sarebbe una cosa molto facile, diviene una cosa fattibile. All'altro aggiungo un piccolo flavor, forse sta piangendo anche il dragone, perché nostra madre, anche lei, una volta era una... Sì! Una cavale che c'è la testa... Un suono orribile. C'è una comunità emotiva tra voi, il dragone e il buio tra le stelle, e si sente probabilmente questo rumore, sarebbe quello di un corno d'orchestra bassissimo. Comincia a risuonare ovunque. Dunque è un di 10 più 2, giusto? Vai! Ah, sono di 7, 8. Dunque è successo con costo. Ok. Direi che il costo narrativo è che sfondi probabilmente la fontana che sta sul fronte del palazzo, e io marco un'altra X su un uomo noioso rende pubblici i tuoi sentimenti. Ok. E dalle finestre del primo piano, senza, come dire, nessun preavviso o roba del genere, ad un certo punto si rompe una finestra e vedete il, come dire, il pugno di Don Matthew rompere una finestra ed urlare, per quanto è vero il Dio, Rebecca, siete la mia donna, venitemi a salvare, voi che ne avete il potere. Magari, ecco, ritardo un pochino il mio arrivare, così magari i francesi lo soiccono di me. No, no, aspetta, questo diventerà un vero problema serio, nel senso che adesso lui ha fatto, io ho messo la terza crocetta, il che vuol dire che lui ha fatto una dichiarazione formale e tu adesso lo devi scaricare, cioè se vuoi scaricarlo, hai un problema, hai letteralmente un problema. Se lo ammazzano non ce l'hai più. Comunque, vai Rebecca, tocca a te. Ah, tocca a me. Tocca anche a te. Io mi stavo lanciando, sfondando una delle finestre appena di sopra. Scusami, fai conto che questo problema lo possiamo risolvere dopo, nel senso che intanto è pronto lì. Sfondo la finestra che probabilmente so essere di una delle stanze in cui posso trovare spada e pistola e da lì il mio obiettivo è strappandomi la gonna nel mentre che mi rialzo, con tutte le movenze per riuscire a, con gli stivali neri che si vedono sotto militari, arrivare nel salone principale. Questa è proprio la scena da film maccio. Assolutamente sì. In cui finalmente ti puoi spogliare. Assolutamente sì e mi lancio giù, appendendomi a una tenda, roteando, sparando, rotolando sul tavolo e poi ingaggiando un duello di spazio. Ok, vai. Per adesso sono nameless PNG quindi hai un bel totti francesi da freddare malamente. Ok, in tutto questo direi che non ho bonus particolari. No, si era fermato per un attimo sul 10, mi aveva riduto. Ma edizione è un 2. Ma tu non hai ancora tirato un successo, mi sbaglio? Forse uno. Forse uno, sì. Ok. Allora, ho due crocette da disporre e quindi metto una qua e una qua. Quindi una è su... una sorella è ferita, per adesso sono ferite trascurabili, tutto sommato. Ma ricevi un paio di colpi che ti graffiano, che ti rallentano. Anche solo per schivare un colpo devi buttarti malamente dietro il mobile che tiene tutte le ceramiche di famiglia e cose così. Ti sbatti un bel po'. E l'altra crocetta invece è di nuovo Whisper from the dark between stars. E sentite il dragoon che avete appena... che hai appena abbandonato in giardino. In realtà non è lui, è quella cosa che è oltre lui, eccetera, che vi dice, siate degne. Giacomo? Siete sotto osservazione. È sotto osservazione e quindi comincia a pensare a cose serie, al posto che cose standard. Devi spiegarmi cosa vuol dire il biglietto carico il soft approach. Sì, nel senso sta pensando a qualcosa di non sparare o dare di spare, che risolva non a pieno ma quasi del tutto la situazione. Però gli serve tempo. Ragion per cui si mette a, chiamiamolo, caricare la magia. Ok. Per fare questo ha bisogno di un po' di tempo, ha bisogno di concentrazione e si rivolge ad Howard per chiedere di aiuto, essenzialmente. E sfortunatamente la pessima scelta di parole è copritemi le spalle. Tornando a puntare all'imbarazzo precedente, c'è un attimo di silenzio e poi non può dire nient'altro, si gira e si mette a concentrarsi. Ok. Tu resti comunque a bordo del Dragoon, nel senso che sei ancora connessa a tutto il... Assolutamente sì. Il Mark Ingegno. Ok. Caricando qualcosa di collegato a lui. Ok. Lui comunque, diciamo, al netto del doppio senso che coglie, e da lì si vede la, come direi, la mancanza di una fine educazione, coglie il doppio senso in realtà con una malizia che non nasconde. Nel momento in cui incroci il suo sguardo, è un irlandese e si sta a menare le mani. Quindi vedi che ha già tolto la giacchetta, c'ha probabilmente le bretelle. Dimmi che arma porta, perché probabilmente un qualche tipo di arma celata l'aveva. Forse... Allora, secondo me... No, qualcosa di piccolo. Secondo me ha un doppio tirapugni, di quelli in bronzo, col suo marchio di casata o di che so io. Ok. Perciò il Ranger nono, il tirapugni, non si sta più. Sì, ma infatti anche io mi immaginavo tipo, che ne so, un coltello da caviglia, quelle cose proprio da porto. Sì, di personale, molto molto personale. E vedete, questo va sul personale. Ok, infila la mano dentro la camicia e ne tira fuori due tirapugni in bronzo, che probabilmente teneva fissati sull'interno dei pantaloni, sull'interno della cintura. lì calza sulle mani e si mette a cercare un buon posto su questo con ritorto albero del dragoon per pararti le spalle. Vai. Questo è un 9, ma colui ha un 2, quindi... Ah, un 2 addirittura. Addirittura, sì. Voi state continuando a marcare i progressi ad ogni giro di tiri, no? Vero? Perché sono indicato io di dirvelo. Quanto dobbiamo... quanti X? Mannaggia. Io ho un 3 in totale, credo di averlo fatto tutte le volte. Io ne ho due, effettivamente ne ho altre. Fatemi controllare, allora sono 1, 2, 3... Abbiamo 7 tiri in chat. E là dunque? Quindi ne sono rimasti indietro un bel po'. Però spesso non c'era così tanta gente in giro, secondo me. Cioè avevamo fatto un po' scene che andavano l'una nell'altra. Cioè secondo me non ha senso spendere il punto se narrativamente non ha senso. Sì, se non c'è una coordinazione no. Però diciamo nelle ultime scene c'è sicuramente stata, almeno sempre tra di voi. Da quando è arrivato il Dragon, quindi negli ultimi due tiri. Comunque, vedete voi se recuperare uno o due punti potreste tranquillamente averli, almeno tra di voi, considerando che negli ultimi due o tre tiri... Arrivo a quattro in tutto io, mettendone uno e uno. Quali delle sue due sorelle Jennifer aveva fatto la battuta sul prete che non è sposabile, non è materiale? Quali erano delle due sorelle? E la Isofred? Sì, verso di me. E a me sta da sapere chi di voi due aveva fatto la distrazione iniziale col Mac? E Jennifer? Per fare l'equitazione col Mac, sì. Comunque tu hai detto equitazione col Mac, ma sappi che uno degli scenari è giocare le gare di dressage con i dragoni. Ovvio, l'ho visto anch'io. Abbiamo fatto anche quello con i fiori, no? Adesso, dunque. Poi abbiamo ancora uno. Posso darlo a Theodore? Perché secondo me forse è rimasto impressionato dall'equitazione. Poi vabbè, è andato a cacciare. Ok. Ok, va bene. Il buon Theodore. L'amore è anche in guerra, cioè. Certo. Ci sono limiti. Ok, quindi noiosamente l'ultimo tiro è un successo pieno. Un successo pieno. Quindi dimmi cosa ottieni. C'è un'altra parte che comincia a cantilenare e semplicemente descrivo che sulla schiena di questo dragon barra ant barra albero demoniaco c'è un enorme bocciolo di un fiore che pian piano sta cominciando a aprirsi, a sbocciare però. Per il momento ancora niente. Ok, non so cosa sia ma penso che a fronte di questo il cielo, che era ovviamente un cielo grigio d'Inghilterra, comincia a diventare via via più minaccioso. Cioè, proprio sopra la tenuta le nuvole cominciano a farsi nervose. Ah sì, anche perché c'è un certo montaggio di scarica di energia Eldritch a far fare le cose che stiamo facendo fare al nostro dragon. Quindi un lampo attraverso il cielo e sentite un tuono rimbombare. Jennifer ti faccio una domanda. A valle di tutto questo, tu chiudendo la scena, sei ancora a bordo del dragon oppure scendi per dare manforte a Rebecca che ha fatto l'irruzione nella villa? Io gli do piedi forti, ok? Sono dentro il dragone, il dragone è parte della nostra estensione, io non devo scendere per dargli un piede. Sì, no, è solo per sapere se vuoi, dentro le stanze della villa, adesso come adesso, tu non potrai agire per le spalle o cose del genere. Senti, lo voglio fare appena posso. Oppure te lo dico adesso, dimmi tu. I problemi sono chiari sostanzialmente, adesso voi avete i francesi in casa con degli ostaggi, quindi potete, come dire, avete fatto, vi siete avvicinati, avete fatto breccia e adesso il... Posso dirti una cosa, Rebecca, che tu sei dentro. Vedi che stanno costruendo qualcosa, sostanzialmente, probabilmente avevano portato, quando sono arrivate le casse per costruire la giostra, per fare tutti quanti i baldacchini, eccetera. Si sono stati tipo per una settimana, sono entrati e usciti manovali e falegnami e quindi c'è stato un gran diavai di carri, di casse, cose così. Tu vedi che si sono asserragliati, hanno praticamente definito un perimetro in quello che è il salone principale della villa e probabilmente adesso tu ti sei guadagnata un buon posto di tiro e siete lì che vi scambiate allegramente proiettili da copertura. E stanno costruendo qualcosa. Qual è il prossimo vostro passo? Il problema ve lo lascio così abbastanza generico. In tutto questo vedi un gruppetto di ostaggi che sono tenuti a, come dire, inginocchiati per terra, ammassati in un angolo sotto minaccia diretta. In tutto questo Gevedaya urla ordini. Io voglio levare la copertura ai francesi. Pronti via! Ho già detto la mia. In che senso la copertura, scusami? Scusa? In che senso la copertura? Eh, poi lo descrivo. Ah, ok, ok, vai. Posto. Io aspetto il momento utile, grazie agli movimenti delle mie sorelle, e punterò a uccidere Gevedaya. Wow. Decapitare il capo. Tagliare la testa del serpente. Ok, io spero di aver scritto per primo. Sì, sì, è scritto per primo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Wow, fatto! Giacomo, silenzioso, ma uscito per primo in piena sintonia. Vai! E Eliza continua e a questo punto conclude la sua cantilena e il fiore finisce di sbocciare. Quando si apre, vediamo che all'interno, dove ci sono gli stami, steli, non mi ricordo più dalle medie, esattamente le parti del fiore, ma è essenzialmente completamente pieno di occhi e pupille che guardano all'esterno. E con l'apertura rilasciano polline, un'esplosione di polline un po' in tutta la villa, che in realtà non sembra fare niente, ma guardandoci attorno, vediamo che tutti gli araldi, i quadri, i dipinti, gli affreschi, le tende, che hanno occhi, adesso hanno occhi veri e chiunque li guardi viene essenzialmente ipnotizzato. Oh, Dio, eh! Boni e brutti non si fa differenza. Cioè, tipo, anche le statue di... hai presente i mezzobusti dei generali, quella roba lì, in marmo bianco, che però poi hanno occhi vivi, occhi di carne e di fissono. Ho visto anche i pavoni nel cortile, hai presente che sanno le piume con quelli che sanno gli occhi finti, aprono, e quelli sono tutti occhi veri adesso. Cioè, hai presente gli arabeschi sui tappeti? Ecco, no? Appena c'è tipo questa forma a mandorla, che per quanto stilizzate, eccetera, però è un occhio, vedi che il tappeto apre e comincia a essere... Wow, è bellissimo ed inquietantissimo. È fantastico. Però tiriamo i dadi per vedere cosa, cosa dannazione succede. Mica tartine e gelatine, qua arriva l'Hoffcraft. Vai, vai, vai. È bello. E a questa ti chiedo un vantaggio. Vantaggio perché prima hai usato un'azione per, diciamo, nulla. Sì, sì, ci sta tutta. Ok. Ed è un 9. Abbiamo il 9, che ci sta che non sia il 10 pieno, perché qualcosa ci può succedere. E succede quello che succede, nel senso che cominciano a essere... Non è che cadono a terra addormentati, ma sono fermi a fissare questi occhi. E quello che ci vedono dietro, qualsiasi cosa sia. Ok. Mark, un'attacca su Eternity Reactor in Rage. Stai drenando un sacco di potere dal dragoon, dal reattore principale. Per far fiorire questo fiore, vedi che ha seccato totalmente alcune parti, molti rami che compongono il braccio destro, che a un certo punto, di colpo, si rompe. viene sostituito da dei vittici più giovani, però più deboli, ancora immaturi e cose del genere. Si è veramente prosciugato per concentrare tutto su questo. E il cuore principale comincia a reagire a questa richiesta di potere diventando instabile. Perché tanto il problema non è finire l'energia, perché tanto l'energia è infinita. Il problema è dominare il rilascio. Quindi comincia a pulsare in un modo che cominciate a tutti quanti a sentire nelle tempie. E probabilmente Howard comincia a essere stordito. E poi forse probabilmente, anzi, da come l'hai descritta quasi sicuramente, ipnotizzato anche lui. Quando si gira e dice... Ma che... Lui vede in pieno il fiore, probabilmente. Sì, infatti, infatti. Cioè, lui si gira per guardare il fiore. Ok. Resta lì a mezz'aria, intontito. Per tutto questo tempo, stiamo cercando di corteggiarli, basta ipnotizzarli. E adesso arriva Jennifer. Jennifer, questa è una cosa che forse sarebbe più... Però, ho letto una descrizione del tipo di cose che fa Jennifer. E c'è dentro. Lei sfonda cose. Ok. Dunque, essenzialmente voglio tranciare la casa. Come se fosse una casa di bambole. Ok. Dunque, questo tranciato laterale, dove si vede l'interno, con dentro Rebecca, che sta facendo le sue cose da corpo a corpo. E i fiori che stanno fioreggiando con gli occhi e tutto quanto. Ed essenzialmente voglio levare... Voglio levare la cultura. Voglio scoprire i francesi che stanno andando fuori le finestre. C'erano gli ostaggi nelle stanze. Cioè, letteralmente come se fosse una casa di bambole. Ok, la voglio esporre. Con una scalciata della... Ti faccio una domanda. Perché la casa delle bambole si espone a due possibili interpretazioni. Vuoi sfondare tutto il tetto e lasciare quindi la casa visibile dall'alto. Quindi con, diciamo, la bambina che gioca dall'alto con i pupazzetti muovendo le stanze. Oppure le case delle bambole sono quelle che hanno la facciata rimovibile. Quindi sostanzialmente con un calcio mangi via tutta la facciata della casa e restano le stanze del piano terra, del primo piano, del secondo piano, tutte visibili dall'esterno. Sì, mentre come nel calcio hai giocato lo aprivi lì, no? Io pensavo a quello. Esatto, esatto. Quindi tu togli praticamente la facciata e adesso tutte le stanze danno sul giardino e sul dragoon. E questo sarebbe un'avvantaggiare. Per fare quello che vogliono fare, così hanno più visibilità e... Assolutamente. Vai. Allora, domanda adesso. Una di noi è scesa dal... Sì, io sono nel salone. Ho solo un più uno, giusto? Io sono un questo. Io l'arbitrerei così, dimmi tu. Sì. Ok. E non è particolarmente facile, quindi non ti darai vantaggio. Sette. È un sette che quindi riesce ad essere un successo. Quel più uno fondamentale per giungere al successo. Ah, abbiamo messo che il 6 è comunque un successo. Yes. L'abbiamo aggiunto. Ah, è vero, è vero. Sì, sì, scusatemi. Io continuo a guardare la tabellina che ho stampato in cui il 6 non esiste. Sì, è vero. Sappiate che nella tabella originale il 6 non c'è. Ma a parte questo, il 6 è il motivo per cui l'oscurità tra le stelle mormora. Sì. E' un successo, ma ha un costo. E il costo è abbastanza facile. In questo momento metto un'altra tacca al sistema di movimentazione. Cioè già il, come dire, il dragoon... Anzi, facciamo così, acceleriamo, visto che comunque siamo sul finire. metto la terza tacca su, il motorio diventa instabile. Oh. Ok. Ce la fai? Dimmi tu se vuoi dare qualche dettaglio di come ti muovi. No, Jennifer scalcia come faresti con un cavallo, no? Gli mette i tacchi dentro e reagisce. In maniera magari anche esagerata il Gawain reagisce e quella casa è aperta come un barattolo adesso. Ok. E facendo questo, probabilmente quello che mi immagino è che il dragoon si danneggia ulteriormente, che però non è un problema sistematico. perché il dragoon magari ha, per come l'abbiamo descritto, per come me lo immagino, ha effettivamente una serie di capacità di autorigenerazione che vanno in automatico. Il problema è che già era in una situazione in cui stava tentando di arrivare a una stabilità di qualche tipo, dopo ciò che Eliza gli aveva chiesto. E il fatto di fare questo enorme sforzo, Eliza tu lo senti urlare nel momento in cui le cose cominciano a rotolare male, ok? Senti il battito che sta sotto tutto cominciare a farsi irregolare. Ma questo sarà un problema per dopo. Perché adesso c'è un'affermazione importante da parte da qualcuno che ha tirato solo fallimenti fino adesso. Infatti quindi statisticamente, prima o poi, dovrò riuscirci, no? Perché l'intento di Rebecca, nel mentre che la casa sta venendo letteralmente sradicata, quindi i francesi hanno parecchio di cui preoccuparsi, è lanciarsi tra le macerie, tra i tavoli, e puntare la testa del serpente per decapitarlo. Si va... Molto laconico, il messaggio in chat era Decapito Jebed. Eh sì, perché l'ho scritto il ventottesimo secondo. Però funziona, c'è tutto, c'è tutto quello che serve. La villa sta venendo giù, la gente comincia a urlare, i francesi stessi cominciano a cercare riparo, non capendo. Se abbiate deciso semplicemente di seppellirli dentro la villa. Infatti io qui mi arrogherei addirittura di prendere proprio un bel più quattro, perché sfrutto entrambi i legami con le sorelle. Beh, avete fatto, come dire, il piano combinato. Comunque effettivamente la... Mi immagino che in realtà l'illusione comunque blocchi ancora la maggior parte delle persone. Mi immagino qualcuno che magari viene colpito da parte dei detriti di cosa uscire dall'illusione, però essere messo in una posizione di pericolo talmente grande da comunque essere ormai il panico totale. E in questo facciamo il duello finale. È un 10. Sarebbe un 12 addirittura. Addirittura? Sì, proprio spariamo altissimo con questo tiro. Vai. Godiamoci questa vendetta con quello che questa mattina era il tuo aspirante marito ed ora ti ritrovi in punta di spada. Probabilmente con il primo slancio è quando le radici di Gawain riescono a penetrare nella pietra e stanno cominciando a sradicarla per scoperchiare la casa. Rebecca, grazie alla telepatia e alla percezione di quello che sta pensando Jennifer va per aggrapparsi a queste radici, in parte si fa tirare avanti da queste che però la porterebbero verso l'esterno, quindi calcia un tavolo, rotola e con uno scatto tra le macerie che stanno venendo sradicate via arriva un Jebediah che neanche se lo stava aspettando, prova a spararle ma lei è troppo rapida, chiude la distanza e con un singolo movimento di spada, la testa proprio. E c'è quell'attimo proprio di nuovo da filmaccio in cui per un attimo sembra che il colpo sia andato a vuoto e poi stok, la testa cade malamente prima che lui possa anche lanciare l'ultimo laconico insulto nei tuoi confronti. A questo punto dato che siamo entrati in un, non dico B-movie però in un a meno movie o B-plus movie. No, è proprio, sai cosa, è proprio un palp pecero. Sì, è palp alla Kill Bill in questo momento. Esatto, e lo sa di esserlo, secondo me siamo su quel genere lì. La testa di Jebediah vola e rotola verso Caitlyn. Rebecca le lancia. Che era una degli ostaggi ovviamente. Era una degli ostaggi, logicamente. E lei la osserva mentre c'è questo attimo di pace involontaria e le dice tienila pure. E poi si volta per andare ad affrontare gli altri. E adesso tu hai un problema però. Anzi, adesso avete due problemi. Direi che sono i due problemi finali in parallelo. Perché tu hai una dichiarazione da parte di Don Meteo da uscire, da risolvere. E infatti chiusa questa scena proprio badass, fantastica, vedi questo uomo sudaticcio ed evidentemente estremamente preoccupato che ti fa incontro e dice mia dama voi mi avete salvato e io quindi vi appartengo e si inchina per fare la proposta. Oh fuck. Eh, io le tre croce le ho messe ragazzi e devo picchiare, eh. Devo picchiare. Dall'altra parte avete un problema ugualmente serio. Cioè sta per espodere il dragona. Ognuno adesso investa le sue, come dire, le sue risorse nel problema che vuole risolvere. Sono due problemi in parallelo. Avete marcato le X dell'ultima prova? Domanda, i francesi sono tutti fuori gioco. I francesi ormai sono fuori dall'equazione. Tipo dentro le macerie, i morenti. Sì, l'abbiamo risolta. Nel frattempo posso dirti, secondo me, vostro padre sta guidando una cosa, un rally sulle colline intorno alla villa sparando ai fuggitivi che nel frattempo si stanno sparpagliando. Con la doppietta e i cani da caccia, sì. Sì, nel frattempo hanno ovviamente mollato i beagle da caccia. E a cavallo hanno aperto l'equivalente della caccia alla volpe ma per sparare alle spalle dei francesi in ritirata. Voglio fare un commento telepatico a Rebecca quando decapita a Jebediah. Peccato, cavalcava bene. Wink, wink. Pronti? 30 secondi adesso per risolvere una dichiarazione di matrimonio e un qualcosa di molto brutto che sta per discruggere l'Inghilterra meridionale. Io cerco di calmare Gawain. Io chiedo a Eliza di far sanguinare gli occhi, l'illusione degli occhi. Ok, io ho una potenziale altra alternativa. Questo è un extra che ci metto io per la mia agenda. Siete a 20? Parlate, buttateli cosa se volete. 24, 29, 30. Madonna mia. Ok. Bene, ci siamo. Tutti dentro. Ultimo giro di tiri. Vediamo come va. Nilo. Allora, Jennifer. Jennifer, una delle sue caratteristiche è che può, come si dice, charm, può ammagliare qualcuno con la sua onestà, con la sua innocenza, essenzialmente con la sua giusta. giovinezza. E lo voglio fare con Gawain o qualsiasi sia quella cosa che noi ci riferiamo che è oltre alle stelle quando controlliamo o quando chiamiamo Gawain, ok? Ed essenzialmente lo incomincia, cioè lo calma, come faresti con un destriero imbizzarrito in strada, lo calma, lo accarezza e gli sussurra in lingua Eldritch. e gli sussurra immense piccolezze, per calmarlo. Bisogna parlare così con gli esseri oltre alle stelle. Vediamo cosa succede. Posso tirare in ballo comunque la presenza di Elisa? Perché lei, da quanto ho capito, era ancora sul... Sì? Certo. Lei sta scendendo, ma è comunque in presente. Sì? Dunque, lei in un qualche modo mi supporta in maniera telepatica, è questa l'idea. E per il semplice fatto che è ancora connessa al Dragoon. Dunque, posso tirare addirittura con un vantaggio. Perché ho marcato tre crocette su Elisa. Dunque, cos'è? Tiro due e scelgo il migliore, giusto? Mhm. Ok. E il nove. Dunque, è successo con un costo. Per fortuna, perché sennò sarebbe stato due. Il due sarebbe stato preoccupante. Ok. È un successo. Vediamo subito di segnare il costo. E il costo, secondo me, è semplicemente che metto Your womanly disposition causes his problem. Cioè, probabilmente, alla fine rompi in pianto proprio. Nel senso che in questa, come dire, in questa ninna nanna che canti a lui e canti a te, a un certo punto ritorni al pensiero di tua madre e rompi in pianto e, come abbiamo detto, sei legata al Dragoon, il quale esso stesso rompe in una tristezza che risolve il problema generale, ma lo manda in quescenza. Quindi, letteralmente, va a spegnersi temporaneamente, niente di grave, però, diciamo, rimanete lì, sostanzialmente abbracciati l'uno nell'altro e chiudi così la questione. Eliza, seconda da agire. Allora, Eliza è stanca e ha un po' la testa, forse, leggera, vuota dallo sforzo richiesto e questa è una cosa. E seconda cosa è, per forza di cose, non è più pacata e controllata come le è stato insegnato, però allo stesso tempo è la prima volta che si è scatenata veramente nella vita e capisce che Howard è stata la scintilla di questa cosa e vede sua sorella in una terribile posizione. Ragion per cui l'unica soluzione che le viene in mente al momento ha qualche secondo per pensare è fare una controproposta di matrimonio ad Howard e essendo la sorella maggiore sarà data precedenza a lei, non ci si può pestare i piedi a matrimonio. Secondo una vecchia legge non si possono fare due fidanzamenti nello stesso giorno. Quindi, se ti fidanzi tu, lei è bellissima questa gabola. Almeno momentaneamente. e quindi in faccia al giusto modo di fare dove dovrebbe essere il gentiluomo a proporre chiede ad Howard e giustamente tira un dieci pieno perché è il vero amore. Mi permetto di calzarla giusta perché non solo funziona ma funziona anche nel modo giusto. cioè sostanzialmente però mi immagino con il fatto che Howard è esso stesso ancora influenzato da questa da questa illusione generale e cose del genere che dagli ultimi comandi prima di staccarti dal dragoon tale per cui in realtà è lui che fa tutto. Ah, ok. Cioè, nel senso non è che lo comandi però hai presente fai l'inception del pensiero che è il momento giusto e che se lo fa adesso tu direi di sì e cavalchi la sua emozione che effettivamente lui comunque era ben disposto nei tuoi confronti tale per cui lui rompe gli indugi si sveglia si gira e tu sei lì davanti perfetta che per caso è la distanza giusta lui si inginocchia e ti dice Eliza Bryston vuoi sposarmi. Ok. Coppia semplicemente in lacrime. Ma a tutti. Applausi generali dalla gente che ovviamente adesso si capisce perché il regista ha smontato mezza villa perché questa scena di matrimonio sul dragoon doveva essere visibile a tutti che però erano dentro la villa come fai? Togli la facciata della villa. È il metodo più semplice. È da applaudire. Ok. È il Deusa's Machina del regista che dice sì ma mi serve del pubblico per la dichiarazione di matrimonio come faccio? Sfonda la villa aprila ed effettivamente alla dichiarazione tutti quanti assistono e ci sono gli applausi i fischi e comincia il gioiere da dentro la villa. Oh bella brava! Nel frattempo Oh bella brava! Nel frattempo Nel frattempo Rebecca tu comunque una risposta la devi dare. quindi ok quindi devi tirare quei dati Rebecca stava già cercando di unire i puntini prende come spunto tutto quello che può e facendo cherry picking di tutto quello che è attorno visto che comunque è istruita ed è ben intelligente prova a citare dei versetti biblici che indicano palesemente ciò che è successo oggi è un cattivo auspicio per le sue nozze dalla morte della madre al serpente in casa alla sorella più vecchia che lascia il nido tutte le cose che ne vengono in mente posso dirti giuditta eoloferne con giuditta che tagliò la testa esatto tutto quello proprio che riesce a mescolare in un unico calderone con un'interpretazione teologica che secondo lei assolutamente a caso e grazie ad Elisa è un sette quindi è un successo con un costo ok la tua interpretazione fa acqua da tutte le parti però però c'è l'altro matrimonio c'è l'altro matrimonio si potrebbe comunque come dire fare un gentle agreement tale per cui non siete fidanzati però però vi intendete fidanzati riesci comunque con questo successo a giustificare il tuo no senza portarti ulteriori ulteriore stigma la conseguenza è che sarà comunque un personaggio molto appiccicoso per il tuo futuro quindi detto questo fai questo tuo sermone poi basta l'attenzione si catalizza sull'accettata proposta di matrimonio della tua sorella più grande tuo padre torna dalla battuta di caccia con il resto degli ospiti e dentro sera tutto sommato si organizzerà il il funerale di vostra madre e i festeggiamenti per il fidanzamento lascio a voi vorrei fare un ultimo tiro simulativo tu dici facciamo l'epilogo sì se volete vi lascerei semplicemente fare l'epilogo se volete lasciare l'epilogo ai dadi tirate i dadi sì io voglio vedere come si comporta Teodor e a mingueri che ha visto tutta questa cosa ok perché effettivamente forse cioè se c'è un peccato vittoriano per una signora è far trappellare troppe emozioni ok comunque non so come la prende Teodor ok in quanto a vedere Jennifer come prospettiva di sposarla ok lo tiro semplicemente con un più uno perché c'ho un Mark con lui dimmi svantaggio vantaggio cose del genere essenzialmente te la metto così in contesto dopo tutte queste cose emozionali lei semplicemente cerca il conforto da Teodor ok che non lo vuole dare perché essenzialmente c'è tipo il vestito rovinato ci sono queste lacrime di catrame che le scendono sul vestito sulle guance a Jennifer non so però ti dirò lui fosse stato il bell'imbusto ben vestito e che cavalca bene ti avrebbe dato svantaggio senza pensarci due volte però alla fin fine questo è veramente il tizio educato ed educato tale per cui anche se arrivassi coperta di funk ti direbbe buonasera Jennifer quindi semmai il problema sarebbe l'inattività cioè che probabilmente per arrivare alla proposta di patrimonio con questo ci metti il tempo per diventare vecchia come Elisa quindi secondo me tira senza particolari modificatori e vediamo come va il più uno considero su o no? sì sì il più uno suo sì ok no dico non applico né vantaggio né svantaggio vediamo come va no è un successo è un successo non costo sta anche in quello che hai detto essenzialmente che magari per quella azione lui comunque cerca di consolarla ma ok cioè sì diciamo allora sarebbe la situazione di come dire di fragilità emotiva in cui qualcuno potrebbe anche pensare di fare quel passo in più di avere il contatto fisico una carezza di creare quel ponte emotivo e lui è talmente terribilmente educato che letteralmente non ti dà nemmeno la spalla su cui piangere cioè lui c'è però la scena è comunque un po' un po' freddina e ci vorrà del tempo però il vostro rapporto è salvo secondo me secondo me è questa cosa e lui si schiva educatamente la manina fa pazzesco sulla mia ok avete delle scene di chiusura io voglio sapere che fine farà Rebecca però è un'ottima domanda cosa posso perché a questo punto rolliamo per vedere se sposo il prete aspetta lo vuoi come giocatore o come no no però tiro un di 10 se passano più di 5 anni quindi dal 6 in su finisce con lo sposare il prete perché ormai non ha più scelta da 5 in giù invece vuol dire che trovo un altro trovo alternative sarà l'unica volta che tirerò alto assolutamente sì ed è un 8 quindi sì tra 8 anni sposa Don Matthew è quella la vita che si è scelta sarà un matrimonio estremamente infelice ma si divertirà a combattere e a continuare a posso dire siamo anche nell'epoca come dire dei romanzi dei grandi tradimenti e cose del genere e quindi insomma chissà Rebecca ma lei prende il suo scopo di spada eldritica come fondamentale solo raramente amore e matrimonio sono due cose compatibili in quell'era dunque Eliza hai come dire l'happy ending di questa storia sei stata il faro dei Brightborn sei riuscita a far quadrare tutto in un'epoca difficile verrai probabilmente come dire portata in palmo di mano alle future generazioni di Brightborn dicendo fai come tua nonna Eliza da un inizio in pecora nera è arrivato fino all'ultimo è si è provato fino all'ultimo a finire Drittel aspetta è un hit bloomer no? perché ha fatto il fiore no scattucci ha sbucciato tardi ok no l'unica nota che mi sento di dare è che la narrativa che abbiamo fatto questa sera è stata una rampa di lancio verso l'alto e in realtà da come vedo Eliza è attirata dal fuoco ma poi ha paura di bruciarsi quindi finirà felicemente ma con lei che torna ad essere sì ci siamo divertiti ma adesso le cose vanno fatte come si deve è morta mia madre quindi devo prendere il suo ruolo e ci sono cose da fare e quella che aveva scartato momentaneamente come come la parte noiosa di sé per il per il fuoco irlandese in realtà è effettivamente una parte di sé che non può scartare del tutto e quindi passerà la vita a bilanciare le due cose ecco ok quindi c'è il fast forward tipo te che fai il fuoco come dire l'angelo del fuocolare e tutto quanto e con Howard più vecchio un po' più grosso e continui a rimbrottarlo sul fatto che gli stivali da caccia non devi entrare con gli stivali da caccia in casa caspita ma il giorno in cui ti ho trovato è diverso ecco ecco vabbè però diciamo vi immagino comunque come coppia no no è un lieto fine assolutamente sì sì c'è questa tiro alla fune un po' da una parte un po' dall'altra molto a tema molto a tema molto nel genere nel migliore dei modi Jennifer la lascerei risolta perché tanto la più giovane tutte le a tempo ok sì e diciamo la lasciamo con un non un fidanzamento nel senso che il fidanzamento sarebbe la promessa di matrimonio però con questa frequentazione e e si vedrà io in realtà me la vedo anche con una sfilta di futuri interessati ma sai perché perché ovviamente i tempi cambiano questa guerra finirà prima o dopo no? dunque e magari prenderò un fidanzato francese forse ci si conosce sul campo di battaglia una cosa così Jennifer è l'innovativa di tutte quindi sai mai bene andiamo andiamo a chiudere da 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 questa follia e e basta fine fatto l'epilogo fatto tutto abbiamo sposato due delle due delle nostre tre sorelle io avevo intenzione a un certo punto se i dadi mi avessero permesso di tirare in ballo Marta come tipo spettro mainato della casa però a letto di questo mio piano diamolico che non si è realizzato ma ci l'ho fatta a far esplodere quasi del tutto il dragon quindi sono stato molto contento e basta commenti che dire lento a partire ci sta perché alla fine senza una struttura senza una reference sarebbe ingiusto chiedere di più dopodiché nel momento in cui abbiamo alzato un po' la posta mi pare che ha girato bene per quello che si può pretendere appunto i giochi di award sono così sono per gran parte un fai da te lui ci butta dentro concetti idee numeri poi dopo arrangio tipo senza è così io non avevo non avevo mai fatto un one page ce ne sono di più stabili perché a me vorrebbe da pensare che siano bene o male tutti così no no ce ne sono di molto più stabili in realtà ad esempio the witch is dead secondo me è mille volte più stabile di questo eccetera eccetera ci sono di più stabili io mi butto sulla critica e secondo me ha gestito proprio male la pagina cioè ci sono tante informazioni che si potevano riassumere in un quarto dello spazio soprattutto sulle sorelle e metterci due due cose in più sulla meccanica o sulla guida per dirti cioè non c'è scritto che c'è il GM mentre mentre per dire in the witch is dead c'è e il GM fa questo tira su queste tabelle fai queste cose che sembra banale però però comunque insomma almeno due righe aiuterebbero però sì diciamo si poteva scrivere meglio io sono un po' dubbioso sull'inizio perché da un lato è stata la parte che ha funzionato meno da quell'altro ho un po' l'impressione che però serva per dare quel minimo di spessore tale per cui poi come dire è il giorno ordinario no è la vita il mondo ordinario dei personaggi senza quello non avremmo avuto quel minimo di aggancio emotivo sui PNG sulle relazioni sulle sorelle stesse quindi in qualche modo tu hai rullato tu hai rullato su What's Happening Today eccetera eccetera tipo le mosse dei francesi o te lo sei inventato? eh no ne ho tirata una sola che era quella del sono in sono in Disguise capito ok erano nascosti sono in Disguises e quindi ho detto ok li metto come imbucati alla festa di lì in poi è stato semplicemente caos ma io non ho tirato costantemente no no penso che sia da usare basta come abbiamo tirato What's Happening Today io ho tirato il cosa stanno facendo i francesi è venuto fuori sono in sono sotto copertura e a un certo punto era talmente fastidioso il fidanzato di Rebecca che ha detto vabbè adesso diventa francese si io avrei messo per assurdo non lo so se un counter o qualcosa per rafforzare la ricerca del marito è che l'hai visto allora noi abbiamo la versione text only credo io sto usando quella perché è la più facile da leggere tra l'altro è anche la più completa perché tra quella con l'immagine e il text only il text only è la più completa per quanto poco ci sia one page però per dire come c'è il design process di Awit com'è posso solo immaginarmelo c'è lui fa un volo in aereo o qualcosa del genere prende un block notice ci disegna qualcosa poi scrivacchia attorno questo è il suo design process come per dire tu dici eh potrebbe esserci questo potrebbe esserci quell'altro eh sì potrebbe ma è un one page sono d'accordo che da un one page non puoi aspettarti Blade in the Dark sì sì però è un one page che secondo me manca un po' diciamo se prendi Laser and Feelings esatto allora diciamo secondo me vanno distinte le due categorie nel senso che un conto è un one page un conto è un che ne so una writing gem in cui hai tre ore per scrivere un gioco perché un gioco può essere un one page e può essere alla settima revisione quindi può essere comunque molto rifinito pur stando in una pagina sono due concetti cioè due cose diverse e un gioco può essere un one page in draft cioè questo è un gioco in draft sostanzialmente nel senso che è buttato lì ma diciamo che se uno si mettesse a riscriverlo tre quattro volte probabilmente sarebbe ancora un one page sarebbe ancora tutto qui sarebbe molto più facile da affrontare ecco diciamo il disordine ti dà un po' di difficoltà aggiuntiva sono autori diversi stili diversi John Harper però devo dire all'inizio appunto mi è sembrato un po' freddo poi però è partito devo dire mi sono sinceramente divertito nel momento in cui è cominciato il caos successo appieno perché poteva anche fare semplicemente il tonfo nell'acqua non no siamo riusciti a farlo girare dai grazie alla giocata bene bene grazie a tutti buonanotte a chi ci ha ascoltato in questa follia vittoriana e alla prossima che non so che gioco sarà buonanotte buonanotte gutenacht cosa c'entrano i tedeschi non lo so non lo so lasciati fuori da questa è la prossima guerra esatto ah è la prossima guerra sì mancava di loro Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su youtube potete rimanere in contatto con noi su facebook instagram e alla mail gentediruola gmail.com per commentare criticare chiedere o suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare grazie a tutti